Ciao amici, mi presento, sono Giulia e anche io faccio parte dello staff di Capsule & Coffee. Oggi attraverso un breve video vi mostrerò tutti i prodotti disponibili in negozio dedicati esclusivamente ad un sistema molto diffuso ultimamente nelle vostre case che è quello della lavazza a modo mio. Andiamo al video! Allora, partiamo con Filicori Zecchini, torrefazione di Bologna che ha oltre 100 anni di storia. È un prodotto derivato bar, ci teniamo particolarmente perché con questo prodotto proponiamo la qualità. Come secondo prodotto a cui teniamo e puntiamo davvero tanto è la nostra miscela chiamata Cremoso Prodigio e anche lei è in formato da 100 capsule. Lollo Caffè formato 100 capsule, un prodotto veramente molto buono che ormai conoscete tutti con la pubblicità di Cannavacciuolo. Caffè Bourbone, disponibile in 5 miscele e anche lui in formato 100 capsule. Pop Caffè 100 capsule, disponibile nella miscela cremosa e intensa. E per concludere, non possono mancare le fantastiche bevande, dalle più gustose come il ginseng cioccolato nocciolino pistacchio, alle più rilassanti come l'orzo, il tè e le tisane. Bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro video e con questo vi auguro una buona serata. Ciao!